E benvenuti al nostro consueto appuntamento con il telegiornale Per i Sordi. Apriamo con la cronaca. Un uomo di 56 anni è stato trovato morto in strada stamani a Bibola di Aulla, in provincia di Massa, e secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto dal secondo piano di una palazzina. I soccorritori hanno potuto solo accertare il decesso. Aveva infatti un trauma gravissimo alla testa. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno avviato subito accertamenti. Hanno aggredito con un coltello da sub i due addetti alla sicurezza di un fast food McDonald's a Firenze, in piazza della stazione, ferendone uno perché hanno impedito loro di entrare nel locale senza green pass e mascherine. Per questo un uomo di 30 anni ed un 28enne del Marocco sono stati denunciati dalla polizia. È rimasta ferita una delle guardie private. Sull'episodio del fermo del venditore ambulante senegalese a Firenze non si possono lanciare accuse superficiali non fondate senza che vi sia un minimo di procedimento di verifica interna ed esterna attraverso le autorità giudiziarie. A me le accuse formali non sono mai piaciute, sono tipiche dei regimi. Anche io sono rimasto turbato da un video del genere, però va ricostruita tutta la dinamica. Non possiamo farlo noi senza avere degli elementi. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa tenuta a Palazzo Vecchio. Migliaia di euro di danni, telecamere di sicurezza e schermi rubati, portone scassinato. Questo è il bilancio del furto avvenuto la notte scorsa nella sede della CNA Toscana a Firenze, in Via Lamanni, accanto alla stazione di Santa Maria Novella. Dell'accaduto dà notizia la stessa CNA in un comunicato. I ladri, dopo aver forzato il portone d'ingresso, si sono introdotti all'interno del condominio di Sette Piani, che oltre alla CNA Toscana ospita una serie di uffici. Proseguiamo con la cronaca. La polizia ha tentato di stuprare una donna nel suo appartamento, situato in una zona residenziale di Pontedera, in provincia di Pisa, ma le grida della vittima hanno allertato il vicinato, che ha chiesto aiuto al 112. Poi, la polizia è riuscita a bloccare e arrestare un uomo di 35 anni per tentata violenza sessuale e violazione di domicilio. L'episodio, reso noto oggi dal commissariato di Pontedera, risale alla serata di lunedì scorso, intorno alle 22. I nuovi casi Covid oggi in Toscana sono stati 4.122 su oltre 27.000 esami, di cui più di 5.000 tamponi molecolari. Il tasso dei nuovi positivi è al 14,91%, lo ha riferito il Presidente della Regione, Eugenio Gianni. Rispetto a ieri, aumentano i nuovi positivi, erano stati 4.011, però cala il rapporto percentuale tra nuovi casi e tamponi effettuati. Era stato del 15,36% su oltre 26.000 esami. C'è un continuo lavoro con l'arma dei carabinieri per vedere se quella soluzione che è stata prospettata della nuova base militare di Coltano, in provincia di Pisa, possa essere superata da un'altra ipotesi di destinazione nell'area tra Pisa e Livorno, quindi dalla verifica di ospedaletto ed altre aree, ma non dentro il parco di San Rossore, perché quello che c'è da evitare è l'invadenza in una zona naturale e fragile come il parco. Lo ha detto il Presidente della Toscana, Eugenio Gianni. I costi aziendali di energia elettrica dell'azienda San Montana di Empoli, in provincia di Firenze, specializzata nel settore del gelato e della pastiggeria surgelata, sono passati dagli 8 milioni del 2020 contro i 21 milioni del 2021. Lo ha reso noto in una conferenza stampa l'amministratore delegato dell'azienda Leonardo Bagnoli. Siglata un'ipotesi di accordo tra la direzione aziendale KME, i sindacati e le RSU degli stabilimenti di Serravalle-Scrivia, in provincia di Alessandria, Fornaci di Barga, in provincia di Lucca e Firenze, finalizzato al rilancio dei siti produttivi in Italia. Lo riferiscono FIM, FIOM e WILM, precisando che il business della società rimane la metallurgia e che sono definiti investimenti in tutti gli stabilimenti del gruppo. La Galleria dell'Accademia di Firenze, che ospita come noto il Davide di Michelangelo, comunica che sarà straordinariamente aperta al pubblico lunedì 18 aprile per Pasquetta e lunedì 25 aprile, giorno della liberazione. Gli orari saranno dalle 9 alle 18.45, con ultimo ingresso alle 18.15. Torniamo per un attimo ancora alla cronaca. Prima di chiudere, condannati in rito abbreviato a tre anni e un mese di reclusione i due giovani 23 anni, all'epoca dei fatti, accusati di omicidio preterintenzionale per aver colpito nel luglio del 2017 con pugni alla testa un tassista, Gino Ghirelli, di 69 anni, provocando le lesioni per le quali l'uomo morì dopo essere rimasto in coma per almeno due anni. E prima di chiudere, uno sguardo come di consueto alle previsioni del tempo per domani. In Toscana il cielo sarà sereno o velato, venti deboli in prevalenza da nord-est fino a moderati di maestrale sulla costa nel pomeriggio, mari poco mossi, localmente mossi sull'arcipelago meridionale, temperature stazionarie o un ulteriore elevamento con punte quasi estive di 25-27 gradi in pianura. E questa era la nostra ultima notizia, grazie di essere stati con noi e ai prossimi appuntamenti con il Telegiornale per i sordi. Arrivederci.